Bene carissimi amici, previsione lotto gratis a colpo secco, ben ritrovati sempre sul mio canale per sabato 29 ottobre. A vincita, a venuta. Una bari nazionale che ci darà sicuramente ancora grandi soddisfazioni a colpo secco, quindi mi raccomando a non perdere questa giocata mensile. Dopo ogni estrazione io vi andrò a dare i 4 ambi, o la vola spacca, si giocano i 4 ambi, se non esce si passa alla prossima e così via. La giocata è mensile, quindi miriamo ad ottenere l'ambo secco mensile. Quindi attenzione, contattatemi sempre via Whatsapp 3487547715 per avere questa previsione. Finora ha pagato belle vincite a colpo sia di ambo che di estratto determinato, quindi mi raccomando perché è una bella previsione, è una previsione da non perdere. Quindi anche per l'estrazione di sabato abbiamo i soliti 4 ambi secchi con le ambate a colpo. Si gioca con l'impegno da parte vostra di giocata, pagamento soltanto se uscirà l'ambo secco a ruota secca. Quindi grande previsione, grande giocata, costanza e fiducia sempre nelle previsioni perché solo così si ottengono i grandi risultati. Per adesso saluto a tutti i Mister Sbancolò.